Purtroppo ho 100 giorni di immobilismo perché questa nuova giunta in questi mesi non ha fatto assolutamente niente, a parte portare avanti il lavoro della vecchia giunta, in particolar modo mi rivolgo alle strade che stanno asfaltando, tra l'altro ora che fate anche la segnaletica perché è molto pericoloso, non è stato fatto nulla. Gli unici atti che vediamo sono i trasferimenti di personale per arricchire lo staff del sindaco e queste nuove assunzioni, quando ad esempio i vigili hanno bisogno, il personale invece è l'unico concorso che non è attivo. Detto questo il sindaco al posto di insultare Salvini definendolo alla convention dei socialisti imbarazzante per quanto riguarda le politiche migratorie è meglio che pensi a governare la nostra città, visto che sui temi più importanti come il rilancio dell'economia della nostra città, sotto il profilo turistico, la riqualificazione della zona mare abbiamo una sassonia imbarazzante, ecco su questi temi il Seri purtroppo non parla, quindi è due mesi che non c'è un atto del Consiglio Comunale, quindi è due mesi che il Consiglio Comunale è praticamente fermo, speriamo che torino presto dalle ferie estive gli assessori e il sindaco. Ecco bisogna dire anche che a parte voi della Lega, anche all'opposizione non è che si vede un grande fermento. Vabbè, tanto i 5 Stelle hanno fatto l'inciuccio a livello nazionale, quindi non so quello che potranno fare a Fano, anche in vista delle regionali del prossimo anno, dove si è confermato quello che succederà in Umbria, probabilmente si ritroveranno insieme. Ma al di là di quello che fanno gli altri, noi abbiamo presentato una mozione sull'Afano Grosseto per il completamento, e sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, lì vedremo la maggioranza di centro-sinistra come si comporterà, visto che lo stesso Nencini, ex viceministro delle infrastrutture, promise insieme a Seri che nel giro di qualche anno la Fano Grosseto sarebbe stata completata, non abbiamo visto un metro in più, quindi adesso col nuovo governo chiediamo alla giunta di Fano di farsi portavoce in maniera attiva e concreta. Quindi noi gli atti li stiamo portando, naturalmente quando perdi le elezioni devi dare anche il tempo di fare alla nuova giunta. Purtroppo dobbiamo constatare come questa nuova giunta si è ripartita a sei anni fa, come se questi cinque anni non avessero governato. Vediamo sul palazzetto tutte promesse che purtroppo non seguono ad atti concreti. Noi chiediamo a questa amministrazione di iniziare a correre.